Eccomi ora in campo Blue Tiger contro Rialpacino, passo la parola all'inviato Enzo Rusiello Allora, come ti senti ad aver fatto una splendida tripletta? Quattro, quattro Comunque diciamo prima il nome però, prima di... Di Scala Di Scala? Bravo, bravo Ok No, contento, abbiamo fatto quattro gol, quindi belli Ma comunque abbiamo giocato bene, abbiamo giocato senza ancora due giocatori, così da Pisa Però comunque... Comunque in bocca al lupo, bravissimo Complimenti per questo big match, ciao Ciao